Toscano non è solo un portale e un'app all'avanguardia per vendere casa. Non è solo un'azienda che da 40 anni garantisce affidabilità e risultati. Toscano è un team di professionisti con una missione. Vendere la tua casa. Per vendere casa velocemente e bene, Toscano, il gruppo che fa muovere gli immobili in Italia.